Oggi è il 23 aprile, non è una data qualsiasi per noi. Due anni fa, più o meno a quest'ora, un autobus scoperto faticava ad entrare in una piazza a cavor gremita di gente, fra cori, bandiere e fumogeni. La nostra Fontana del Selle era lì a guardarci, magari un po' preoccupata, ricordando altre feste, altri cori, ma le stesse bandiere. Quella sera, quella notte, abbiamo ritrovato il valore della nostra identità, come solo il calcio, la nostra maglia a strisce rossonere, sa fare da queste parti. Fra quella gente, in quella piazza, c'era chi vedeva quel tripudio per la prima volta e chi, invece, aveva già vissuto quell'esperienza anche per traguardi più importanti della Serie B. È stato bello, emozionante, essere lì, partecipare, festeggiare insieme. Ieri sera, allo ZAC, una parte di quella piazza di due anni prima, si è ritrovata per sventolare bandiere, cantare, accendere di rosso una notte, come se fossimo in una finale europea. La nostra squadra, terz'ultima in classifica, è stata accolta come solo noi sappiamo fare. L'abbiamo sostenuta, incitata, spinta sin dall'inizio. E ci siamo anche illusi di essere ricambiati. Abbiamo pensato per più di un tempo, questa volta ci siamo, questa volta si torna a vincere. Sappiamo tutti com'è andata a finire. Ieri, il solco che separa il nostro valore come tifosi da quello della squadra e della società si è allargato ancora di più. Da un lato c'è una tifoseria che non ha più bisogno di dimostrare niente, che è chiaramente di un livello e di una categoria superiore, in casa e fuori. E dall'altro c'è una società che in tutte le sue componenti ha manifestato delle difficoltà, dei limiti sempre crescenti nel risolvere le situazioni, fino ad arrivare a questo terribile periodo che sa di giorno del giudizio. Ieri si è consumato l'ultimo atto di un dramma sportivo che sembra non avere altra via d'uscita di una rovinosa caduta nella Serie C. Abbiamo incontrato in questo campionato Crotone, Venezia e Livorno. Sono le squadre che lottano con noi per un posto che vale la salvezza diretta e due che vogliono dire play-out. Non abbiamo vinto con nessuna di loro. In un'ipotetica classifica Vulsa siamo fermi a due punti su 18. Parliamoci chiaro. Se la matematica ci dice che potremmo ancora farcela, la logica ci condanna senza appello. Il campo ha detto con la partita di ieri che noi siamo i più deboli. E vi prego, non tirate in ballo la penalizzazione perché in questo mini-torneo tra le squadre di fondo classifica non conta nulla. Nel calcio certo può succedere di tutto. Capita che il Chievo già retrocesso vinca contro la Lazio e quindi può anche darsi che il Foggia faccia un punto in più del Livorno nelle prossime quattro partite, quattro e ultime partite e vada a giocarsi play-out. Può essere, certo, ma non è sicuramente la cosa più probabile. Abbiamo giocato le nostre due finali contro Venezia e Livorno. Dovevamo vincere, potevamo vincere, non abbiamo vinto. I giochi non sono chiusi, ma è dura credere di riuscire a far punti contro Cremonese, Salernitana, Perugia e Verona dopo una sconfitta a Venezia e un pareggio con il Livorno. Ultima considerazione, la più amara. Dopo aver reso note le difficoltà finanziarie rimandando a giugno i pagamenti che andavano fatti a marzo, in assenza di notizie e con i giorni che passano, siamo proprio sicuri che i problemi del Foggia siano solo quelli del campo? Noi abbiamo sottoscritto abbonamenti per un campionato a 22 squadre, poi ridotto a 19, comprato membership card, acquistato oggetti al Foggia Store, seguito la squadra in lungo e in largo per l'Italia come nessun altro ha fatto, portato 12.000 persone allo stadio il giorno di Pasquetta. Ci siamo sorbiti proclami di Serie A, abbiamo visto giocatori che erano una spanna sopra andare via dopo un anonimo girone di andata, abbiamo aspettato il mercato di gennaio per vedere gli acquisti nell'ultima settimana, abbiamo visto sbagliare rigori e prendere gol da polli e nonostante tutto abbiamo continuato ad incitare la squadra come se avesse vinto. Abbiamo buttato giù rospi come mai abbiamo fatto con nessuno per un giusto senso di riconoscenza verso chi ci ha riportato in B dopo quasi vent'anni. Ma nessun credito per quanto ampio potrà mai essere senza limiti. Per questo motivo, per il rispetto che è dovuto per quello che anche noi tifosi abbiamo dimostrato, per la pazienza di questi mesi, per la sofferenza infinita che ci dà questa situazione, è lecito chiedere alla società se ci sarà ancora una società dopo le prossime quattro partite indipendentemente dalla categoria.